Amici e amici di Volonbrite, siamo qui alla conferenza stampa di presentazione dei eventi del 3 dicembre organizzati come sempre dalla consulta per le persone in difficoltà. Siamo in compagnia di Gerardo Gatto, presidente del centro servizi per il volontariato Volto. Buongiorno, grazie per essere con noi. E allora, le chiederemo un commento insomma sull'importanza di una giornata come il 3 dicembre che va avanti e viene festeggiata qui a Torino da più di 20 anni, 25 anni. Io credo che l'importanza sia quella del cambio di mentalità perché noi abbiamo fatto molti passi avanti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, inserimento scolastico, inserimento lavorativo però una barriera che ancora è da superare è quello di capire che il rapporto con le persone disabili non è un rapporto assistenzialistico ma è un rapporto con delle persone che hanno delle emozioni, dei sentimenti, cioè sono delle persone, fonti di relazioni. Ecco, Volto collabora storicamente con CPD nell'organizzazione di eventi non solo il 3 dicembre. Ecco, come proseguirà questa collaborazione per questa giornata e per gli eventi che ci saranno fra pochi giorni ormai? Innanzitutto la consulta per le persone in difficoltà nella persona di Gianni Ferrero è nel direttivo di Volto quindi fa parte proprio dell'indirizzo e linea politica. Volto fornisce servizi come la sua missione e in questo caso fornisce servizi stampa, altri servizi, supporto all'organizzazione della giornata e della festa e in più fornisce consulenze anche tutto il mondo delle associazioni del volontariato e quindi anche della disabilità fiscali, giuridiche per gli statuti. Quindi è proprio un'opera che affianca, sostiene, supporta tutte le associazioni al fine di rendere l'attività efficace e incisiva nel tessuto della società. Grazie mille Presidente e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro a voi. Siamo in compagnia di Marco Mendicino, direttore territoriale di Torino di UbiBanca che ringraziamo per essere qui con noi e volevamo chiederle perché questo sostegno alla consulta per le persone in difficoltà per questa giornata del 3 dicembre. Grazie, il perché è molto semplice, intanto perché come gruppo abbiamo una divisione specialistica che è molto sensibile a tutti i temi del no profit e soprattutto dei temi di vicinanza alle forme di inclusività e di sostegno alle situazioni di difficoltà. Abbiamo conosciuto quest'anno su Torino gli esponenti della consulta e che ci hanno illustrato questo progetto di affiancamento e di sostegno al percorso delle giornate del 3 dicembre di sensibilizzazione della disabilità. Ci è piaciuto molto, ci ha visto subito coinvolti, tanto in quello che può essere il sostegno economico tradizionale che si può dare in questi eventi, quanto nella partecipazione che ciascuno di noi nel vedere il progetto ha deciso di mettere in atto con una dedizione personale, una forma di volontariato che ha unito molto la sensibilità e i colleghi della direzione nel voler sposare questo progetto. E cosa vi aspettate da questa collaborazione poi per il futuro? Penso che può proseguire? Noi speriamo che sia l'inizio di un percorso, parte oggi, il tema è quello di poter insieme alla consulta ma anche agli altri stakeholder del territorio che affrontano queste tematiche possano vederci come un player in grado di non mettere a disposizione solo servizi tipici di un istituto bancario ma anche quello di sposare delle progettualità che nel tempo possano accompagnare le singole realtà verso i loro obiettivi. Siamo sempre qui dalla conferenza stampa della presentazione per gli eventi del 3 dicembre abbiamo il piacere di avere ospiti Luca Nicolino e Valentina Calcagno rispettivamente sono tutte e due della compagnia delle frottole e lei è un'attrice, Luca invece sei presidente direttore, regista, ok. Allora partirei con te Luca, voi presentate di nuovo in collaborazione con CPD lo spettacolo Affetti Clinici, ci puoi spiegare a grandi linee come l'ha la trama, come si sviluppa senza ovviamente svelare i particolari più delicati. Che scabrosi! Affetti Clinici è una commedia degli equivoci ambientata all'interno di una clinica dove questo medico, questo professorone diciamo che è più interessato ai soldi, alle pazienti, alle infermiere piuttosto che alla salute della gente e perciò all'interno logicamente si scatena il putiferio intorno proprio a questa sua incapacità di gestire nel modo giusto questa clinica e fra i vari personaggi ci sono appunto personaggi molto particolari come quello che interpreta Valentina. Giusto? Allora chiederai subito Valentina quale sarà il tuo ruolo, chi sarai nello spettacolo? Il mio ruolo è Pamela, la paziente porca e devo seguire il medico che mi viene bene perché c'è una tenda che si vede tutto e mi devo spogliarmi. Ma no, non svegliamo poi lo vedranno quando verranno allo spettacolo. Diciamo che non è uno spettacolo vietato ai minori, è uno spogliarello soft. Ci mancherebbe. Allora, come ti reputi come attrice, come ti definisci? Mi piace fare l'attrice e da otto anni che faccio la compagnia delle frottole è l'ultima l'epica che facciamo. Il 4 dicembre alle 20.45 a Ciacolo Nuovo. Grazie mille Valentina, grazie Luca e buon lavoro, in bocca al lupo, complimenti, grazie. Siamo in compagnia di Giovanni Ferrero, direttore della consulta a persone in difficoltà. Allora, Giovanni, direttore, tanti eventi anche quest'anno, alcuni classici, altri invece magari rappresentano delle novità. Quali saranno quindi gli appuntamenti che fra pochi giorni ci accompagneranno in questi festeggiamenti del 3 dicembre? Innanzitutto grazie. Innanzitutto già la conferenza stampa di oggi è stato un evento perché tutti potrebbero entrare con una disabilità. Chi era disabile? Ovviamente potrebbero entrare gli altri o si mettono in carrozzina o i tappi alle orecchie o bendati. Però a parte la conferenza stampa il classico evento delle scuole, 2.000 ragazzi che verranno a Pallaruffini dove artisti e atleti si esibiranno, faranno esibizioni di pallavolo seduti, basket in carrozzina, avremo anche la squadra di basket reale mutua che giocherà contro l'HB Basket, nazionale di pallavolo sordi, tanti tanti eventi come ogni anno facciamo con l'appuntamento delle scuole. Poi avremo lo spettacolo affetti critici fatto con i buffoni di corte, anzi fatto da loro. Il buffoni di corte è una compagnia fantastica, una commedia esilarante al Teatro Nuovo appunto 2045 il 4 dicembre. Poi il 6 dicembre è questo convegno che è un po' atipico nel senso che è sulla scelta delle persone con disabilità. Parliamo di disabilità soprattutto intellettiva e cognitiva cioè che la possibilità che loro possano scegliere il loro percorso di vita che purtroppo non è così, c'è sempre l'educatore, c'è sempre l'ente che sceglie per loro e quindi affronteremo questo argomento con la legge sul dopo di noi, quindi ci sarà un notaio, ci sono due associazioni, una che viene dalla Spagna, l'altra che viene da Pordenone che già portano avanti questi discorsi, un medico legale, quindi sarà una mattinata anche questa ricca a Ubi Banca via Santa Teresa 11, il 6 dicembre. Poi avremo l'incontro con gli insegnanti sulla didattica inclusiva in cui il titolo è qua non si boccia ma si sboccia, cioè cercare di farti da fuori la voglia dell'insegnante a prendere nuovi strumenti per poter comunicare con ragazzi con disabilità e poi tantissimi altri eventi, potete andare sul sito della consulta www.cpdconsulta.it e poi seguirci anche sui nostri canali social cpdconsulta e poi c'è la cpdlo.tv dove Marco Bertone è il nostro conduttore. Grazie. E invece il premio 3 dicembre ci sarà? Il premio 3 dicembre ci sarà, non l'abbiamo detto, i premiati verranno premiati, il premio verrà dato durante lo spettacolo il 4 dicembre, saranno una persona e una realtà importanti, però lo scopriremo il 4 dicembre al teatro, quindi sicuramente nei giornali 5 dicembre. Sono due persone, cioè una persona in realtà molto significativa nel nostro mondo. Allora invitiamo tutti a venire allo spettacolo così scopriranno anche in diretta chi sono i premiati. Un'ultima cosa, cosa vi aspettate come consulta per questa edizione? Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è sempre un obiettivo molto semplice, quando si organizza le cose uno ha sempre gli obiettivi importanti. Il nostro è semplice, quello di riuscire a mettere una goccia in tutte le teste delle persone che in qualche modo, direttamente o direttamente partecipano a questi eventi. Questa goccia è quella del buon senso, cioè mettere la macchina sulle strisce è buon senso non metterla. Comprare una rampa che è un negoziante per permettere al cliente con usabilità in carrozzina di poter entrare è buon senso. Quindi il buon senso che deve partire dal primis, dal cittadino, dal papà, la mamma, dal figliolo e poi dagli amministratori, da chi può, deve fare qualcosa. Quindi è questione di veramente purtroppo, e sembra strano, 2019, cosa ci aspettiamo? Civiltà. Ebbè, con questo mi sembra come concludere meglio di così. Grazie mille e in bocca al lupo e auguri per questa bellissima festa. Grazie, grazie a voi, grazie a Volo Bright. Grazie a voi.